Dopo un anno di interruzione a causa della pandemia tornano a Pescara i tradizionali festeggiamenti in onore di Sant'Andrea Postolo, protettore della marineria pescarese. Il programma delle celebrazioni religiose degli eventi all'Atere in calendario per i prossimi 24, 25 e 26 luglio è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo di Città. La caratteristica più bella è la processione in mare, insomma dove noi gettiamo le corone in onore dei caduti e quindi un momento molto suggestivo e particolare per quanto riguarda la festa di Sant'Andrea. Poi chiaramente ci sarà il classico mercatino, la fiera del mercato del pesce non solo, ci saranno i concertini, insomma il lunedì ci sarà il concerto maggiore con la chiusura dei fuochi pirotecnici in mare come abbiamo sempre fatto e quindi insomma come si dice che Dio ce l'ha mai di buona, insomma cerchiamo di fare una bella festa. Certamente il significato religioso è che sottolinea un po' la fede di quello che è stata, la tradizione ma di quello che vorrebbe essere anche il proseguo, il futuro anche della nostra gente. Quindi sottolinea quel senso di un'esperienza legata a una testimonianza cristiana, di un patrono che vorrebbe essere come un modello, un punto di riferimento per la nostra fede cristiana. in fondo ecco questo è la cosa. Poi il resto proprio perché è legata a un'esperienza cristiana non è solo un fatto religioso, è un fatto anche di comunità che si incontra, si ritrova, sta insieme, cerca di rinnovare anche la propria solidarietà.